Sono 260 le visite mediche effettuate nel 2022, 91 le persone registrate che hanno richiesto questo tipo di assistenza. Sono i numeri dello sportello ambulatoriale gestito dalla Caritas e inseriti nel rapporto inermi sulla povertà, un servizio storico ma poco conosciuto e valorizzato. Coloro che vi accedono principalmente hanno tra i 40 e i 49 anni, sono uomini, stranieri e in condizioni di povertà sanitaria. Grazie alla collaborazione di medici e infermieri volontari, il servizio viene puntualmente erogato in convenzione con l'azienda sanitaria ed è dedicato in particolare alle persone non iscritte al Sistema Sanitario Nazionale. Grazie alla collaborazione con il Banco Farmaceutico, il servizio offre anche sostegno per la distribuzione di farmaci da banco a indigenti. I mesi dell'anno con le maggiori presenze sono stati quelli autunnali. Le 91 persone registrate hanno effettuato 260 visite mediche, 38 specialistiche e ricevuto 286 farmaci.